In vista dei prossimi giochi olimpici di Parigi, a Nebbiuno ci sarà un importante appuntamento. Martedì 9 luglio, presso la Sala Fassi, Polina Burova, atleta che rappresenterà l'Ucraina nella disciplina del badminton proprio ai giochi olimpici, incontrerà il pubblico, insieme al suo staff tecnico. L'appuntamento è per le ore 18. Polina Burova sarà nel Bergante a continuare gli allenamenti insieme al suo staff tecnico e incontrerà il pubblico. News 24, la tua nuova TV locale.